Un messaggio di supporto per l'ambiente e per sostenere la raccolta differenziata delle plastiche e per trasformare gli scarti in arte. È questo il progetto presentato questa mattina in collaborazione con Accegas, Era Ambiente e Despar. Una grande iniziativa in occasione proprio della Barcolana 51. Un progetto che si intitola Dalla parte del mare, che è un invito ai triestini a portare in 13 punti vendita di Despar dal 7 luglio al 9 agosto della plastica, che verrà poi trasformata in arte grazie a scart in un sardon barcolano, che è un po' il simbolo della Barcolana 50 più 1. Con gli scarti di plastica verrà realizzato un pesce gigante di 10 metri, che sarà esposto in Piazza Mità d'Italia proprio in occasione della Barcolana 51, diventando il simbolo della regata più grande del mondo. Quest'anno grazie ai partner privati e pubblici abbiamo trasformato quello che era un messaggio in azione, di sensibilizzazione e poi questa è una partenza della Barcolana 50 più 1 sul versante ambientale. Nei prossimi mesi annunceremo tutta una serie di azioni con le scuole, con i rioni di Trieste, per migliorare la nostra città e soprattutto migliorare il nostro mare.